Un saluto a tutti. Previsioni meteosintetiche per sabato 13 gennaio 2024 e breve tendenza. Cambia lo scenario barico a livello euro-mediterraneo con una vasta depressione oceanica che si avvicina da ovest, interrompendo il flusso freddo verso sud. Sulla nostra penisola il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le zone, salvo residui addensamenti all'estremo sud e sulla Sicilia che potrebbero dar luogo a blandi e fugaci rovesci. Tornano le nebbie nelle pianure del nord che risulteranno persistenti e di difficile diradamento. Dalla sera nubi basse in aumento tra Liguria e Toscana con fattibili deboli piovigini. Temperature in lieve calo congelate al nord. Venti settentrionali, in rotazione tra ovest e sud-ovest iniziando dall'alto tirreno. Breve tendenza per i giorni successivi. Si riattiva il flusso perturbato oceanico con tempo in netto peggioramento dalla serata di domenica, quando piogge e temporali investiranno tutta l'area tirrenica. La fenomenologia si trasferirà poi verso sud lunedì. Ancora nebbie al nord. Temperature in aumento e venti occidentali in netto rinforzo. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.